buongiorno a tutti eccoci alla rassegna stampa di martedì 12 gennaio 2021 beh cosa è centrale oggi basta vedere i titoli di prima pagina dei quotidiani il correre della sera il governo è un passo dalla crisi la repubblica governo ultimo atto il giornale il giorno del giudizio il domani renzio conte ne resterà uno solo il giorno della verità sulla crisi oppure il messaggero il recovery non evita la crisi ho fatto solo una breve carrellata questo è il tema principale questo è quello che affronteremo poi ci sono cose interessanti che riguardano il merito del recovery scopriamo che alcuni giornali come domani scoprono le incertezze sul recovery però poi contemporaneamente vedremo un editoriale di vassallo sul domani che diciamo segue la linea ignazi la linea del domani vassallo che potremmo considerare uno dei pentiti di renzi e ne era un grande stimatore quando renzi era presidente del consiglio e segretario del partito adesso diciamo spara a palle incatenate e poi però abbiamo le misure i vaccini la scuola la notizia del piano pandemico che sostanzialmente dice chi bisogna privilegiare o penalizzare a seconda di come la mettete sulla in caso di esplosione dei ricoveri e vi dicendo insomma ci sono un sacco di cose che cercheremo di affrontare tutte insieme ma partirei subito dalla situazione all'interno della maggioranza abbiamo visto il titolo di apertura del correre della sera che poi a pagina 2 con maria teresa meli la mette così voti sugli aiuti all'unione europea poi la crisi per renzi è l'ora dello strappo scrive la meri ieri ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno a firenze ma oggi matteo renzi sarà a roma da due giorni infatti a chi gli chiede quando italia viva ritirerà la sua delegazione al governo risponde con un laconico martedì sera dopo che il consiglio dei ministri avrà varato il recovery plan l'ex presidente infatti non ha intenzione alcuna di passare per colui che rallenta la corsa italiana ai fondi europei io ha spiegato ieri ai suoi non voglio bloccare niente capisco che qualcuno vorrebbe farmi fare la figura dell'irresponsabile ma si sbaglia di grosso quando arriverà il testo lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in consiglio dei ministri perché prima di tutto viene l'interesse del paese ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare questo ossia staccare la spina al governo quella è l'ultima mossa e non è detto che come inizialmente previsto renzi decida di mettere in atto veramente oggi o se preferire aspettare domani se la giocherà al momento opportuno dicono i suoi cioè dopo aver visto le carte degli altri quelle di giuseppe conte soprattutto ieri gli hanno riferito che il presidente del consiglio va dicendo ai partner di governo che tanto renzi il recovery deve votarlo per forza e la cosa non gli ha fatto fare i salti di gioia comunque questa settimana si chiude la partita ha fatto sapere renzi ai suoi per alletta allertarli e preparare la battaglia che si aprirà subito dopo le pressioni sull'ex premier in queste ore sono molte mi hanno offerto di fare il ministro degli esteri sorride leader d'italia viva e aggiunge ma ovviamente gli ho detto di no perché non mi interessano le poltrone anche se non lo hanno capito di me per la verità non hanno compreso niente pensano che poi mi tirerò indietro però non è così ancora ieri le diplomazie erano al lavoro per convincere renzi ad aspettare una ventina di giorni prima di staccare la spina quelle che servono per approvare il recovery plan anche in parlamento oltre che al consiglio dei ministri ma sul serio leader di italia viva tirerà dritto anche sfidando il quirinale che vorrebbe mettere a riparo il recovery per poi gestire una crisi pilotata in un paio di giorni al massimo chi ha parlato con l'ex presidente del consiglio in questi giorni lo ha sentito molto determinato e del resto i suoi gruppi parlamentari sembrano più compatti di quanto ci si potrebbe aspettare soprattutto ora che lo spettro del voto anticipato non c'è più dal momento che anche i deputati e senatori del partito democratico hanno fatto sapere ai loro vertici di non essere favorevoli a un'ipotesi di questo genere io non indetreggio di un passo continua rassicurare renzi quando parla con i suoi ma è la partita che si aprirà dopo la più delicata l'ex premier potrebbe alla fine anche accettare il conteter perché potrebbe considerarlo un suo successo già che l'attuale premier dovrebbe recarsi al colle di mettersi proprio come chiede italia viva ma l'altro ieri il leader di italia viva fatto sapere a chi di dovere alti alleati inclusi che per il momento non intende chiudere nessuno accordo su questa ipotesi era la richiesta avanzata dallo stesso conte però renzi vuole che si apra una crisi formale come ha spiegato domenica al capo delegazione del partito democratico dario franceschini l'esponente dem ha cercato di convincerlo a siglare un accordo matteo siamo in piena pandemia i contagi stanno avendo un'impennata non si può andare una crisi al buio la risposta dell'ex premier è stata inequivocabile per me non esiste nessuna crisi pilotata nessun conteter io posso anche votare il recovery ma poi apro una crisi vera e quindi chiuso a uno dei parlamentari più vicini al leader di italia viva fino all'ultimo minuto utile matteo farà di tutto per cambiare il premier conte perché conte non è all'altezza della fase drammatica e difficile che stiamo vivendo questo è il retroscena di maria teresa meli era utile e poi nel taglio basso c'è giuseppe abberto facci che parla di a proposito degli equilibri la vigilia dei responsabili noi alla finestra questi mitici responsabili poi c'è il retroscena invece di tra l'altro c'è un cesare zapperi sempre a pagina 2 corre la sera ci parla della dei dati sulla visibilità il leader di italia viva è il più citato sui media batte anche il premier e poi il retroscena bisogna vedere come è citato perché se poi è citato come viene citato da vassallo e da molti altri diciamo è tutto da dimostrare che questo sia qualcosa di utile per renzi ma insomma è il retroscena di monica colsoni dice conte è tentato dalla sfida in aula non l'ho voluta io i timori del colle e questo è quello che ci si dice nelle prime due pagine del correre della sera dopo la prima poi se andiamo a pagina 4 come non poteva mancare c'è tutto il tema dei ministri e la cosa divertente che diciamo non ci sta alcun sostanzialmente nome in ballo per quanto riguarda italia via se non quello che mettono i giornali e però già ci stanno i veti del movimento 5 stelle perché si dice trincea movimento 5 stelle contro boschi ministra e per gli 007 ora spunta la morgese così la delega servizi non va ad esponenti di partito il pd punta il ruolo di sottosegretario alla presidenza e indovinate con chi sembra proprio che il predestinato a questo sia goffredo bettini d'altra parte per come si è aperorato la causa del premier conte è anche diciamo una soluzione logica e poi se volete c'è un altro retroscena quello di emmanuele buzzi il giro di telefonate tra di maio bettini e franceschini mettiamo al sicuro i dossier più critici bene se poi vi interessa capire diciamo quali sono le questioni che riguardano il recovery c'è federico fubbini che nella pagina 5 del correla sera dice lavoro giustizia e burocrazia i nodi politici del recovery plan e dice peraltro ci sono le domande di fondo per mesi la sostanza era rimasta coperta dietro centinaia di ipotesi di investimenti grandi medie o anche più viscolari ma ad oggi quando a terra sul tavolo del consiglio dei ministri la bozza di programma per spendere 209 miliardi dei fondi europei che vedremo poi qualcuno dice sono anche di più entro il 2026 obbligherà il governo a rispondere alle sue domande di fondo la commissione europea infatti non regala denaro lo mette a disposizione solo per progetti legati a riforme che impediscano al paese di vanificare la spesa in un fuoco di paglia dunque il governo deve decidere se punta a rivedere il sistema della giustizia e dell'amministrazione nel segno della responsabilità delle catene di comando della competenza e nel merito oppure pensa solo a 16 mila assunzioni a tempo e voti che ne possono derivare il governo deve anche scegliere fra nuovi percorsi credibili di formazione e reinserimento dei disoccupati tenendo conto della realtà del mercato e la difesa d'oltranza dell'attuale sistema pubblico fra decrepiti centri per l'impiego regionali navigatori scadenza insomma vedete che perché vi ho letto questo passo poi lo vedremo in recovery plan è perché poi tutti come dire sparano a palle incatenate su italia via e sorrenzi perché il momento la pandemia e poi mettono in evidenza la drammaticità delle inadeguatezze del piano italiano senza rendersi conto che da una parte questo se riusciamo comunque a ottenere i soldi rischia di essere soldi buttati al vento perché ovviamente gestiti con un piano sbagliato ma addirittura come ricorda fubbini non è neanche detto che i soldi arrivano se il piano non funziona tutto questo noi italia viva lo solleva con questioni di merito precise si spara contro italia viva che è responsabile e via dicendo e contestualmente si dice che però le cose sono esattamente come dice italia viva e così va il mondo amici miei tra l'altro sulla pagina 5 del corrente della sera si dice che lega e fratelli italia brussela si astengono sulle regole dal sul primo via libera che è arrivato al parlamento europeo al regolamento sulla governance del recovery va bene questo è il corrente della sera l'abbiamo visto tutto stessa impostazione da parte di repubblica pagine successive alla prima avete visto governo ultimo atto e qui si dice eh con giovanna vitale governo sull'oro della crisi oggi può scoccare l'ora x il nuovo recovery plan tra l'altro vi segnalo che tutti i giornali eh entrano dettagliatamente nel merito del recovery plan c'è quasi da pensare che il testo che italia viva chiedeva 24 ore prima del consiglio ministri per poterlo leggere ai giornali si è arrivata addirittura prima che ai ministri ma questa diciamo è una mia eh ovviamente mh intuizione malevola il nuovo recovery plan inviato ieri ministri stasera il cdm dopo il via libera renzi potrebbe ritirare la delegazione italia viva il premier si muova o non resteremo al nostro posto bettini avverte il sostegno all'esecutivo di una parte di forza italia non è un'eresia e c'è sempre bettini ormai voi sentite più parlare di zingaretti ogni tanto si sente orlando ma sentite più parlare zingaretti no il segretario del partito democratico è goffredo bettini e poi vedremo a quale pare che renzi sia andato anche a trovarlo a casa evidentemente diciamo non aveva altro da fare ma eh Tommaso Ciliaco a pagina tre il pd sconsiglia la sfida in aula conte non esclude eh le eh dimissioni meglio evitare strappi vedete che qui c'è un'impostazione diversa sui giornali vedremo impostazioni contrapposte cioè c'è chi dice che conte privilegia la sfida in aula chi dice che invece eh non esclude le dimissioni insomma eh se ministri se le ministri d'italia viva lasciano dice tra l'altro Ciliaco il premier cercherà il ter ma dovrà decidere tra il voto in parlamento e la salita in colle al colle questo è quello che ci dice la repubblica nelle due prime pagine nelle pagine successive ci si occupa dei partiti e allora Annalisa Guzzocrea si occupa del momento 5 stelle il movimento senza leadership diviso tra responsabili e rimpasto pentastellati alle prese con la transizione dal reggente crimi al vertice a 5 e incerti sulla linea da tenere i d'albi di maniani è una nuova categoria spingono per un ricambio della squadra ma dopo lo stop di grillo nessuno crede più al ritorno alle urne poi se volete nel taglio basso la repubblica fa un'operazione con Emanuele Lauria gli addi di Bossi e Bertinotti i dietro fronte di Fini e Mastella ecco i guastatori prima di Renzi quindi Renzi in modo neanche troppo subliminale repubblica lo considera un guastatore non un costruttore magari parafrasando le parole del presidente della repubblica cioè che cerca di costruire un futuro per questo paese attraverso questioni di merito migliore no Renzi è un guastatore e dice la storia della seconda repubblica è segnata dai tradimenti dei piccoli partiti a farne le spese Prodi ma anche Berlusconi vabbè questa repubblica se poi siete interessati alla falta politica o agli scenari come preferite Emanuele Lauria e Carmelo Lopapa si occupano degli sbocchi della crisi dalla tripletta al voto gli scenari più quotati se cade il governo le ipotesi al momento più probabili sono quelle che vedono il premier tornare in sella con una nuova squadra o una nuova alleanza e vabbè vedremo poi effettivamente che cosa succede questa è la repubblica andiamo inevitabilmente anche su la stampa vabbè ma la stampa non ha nulla di particolarmente diciamo interessante sulle questioni politiche se non poi vedremo il punto di Marcello Sorgi dice veti incrociati polemiche e veleni se la politica finisce nel buco nero ecco questo è un racconto così viene intitolato di Federico Geremicca nella prima pagina che poi prosegue nella pagina 9 e tra l'altro Geremicca mette in evidenza che Zingaretti è costretto a difendere un governo che non voleva sì perché bisognerebbe raccontarla a Bettini questo che quando bisogna fare il governo è contro Conte presidente del consiglio vi ricordate ci deve essere la discontinuità e via dicendo era proprio il segretario del partito democratico che però poi in corso d'opera si è innamorato evidentemente con il suo partito del presidente del consiglio e insomma dopodiché anche su la stampa ci sta il toto ministri pressing fallito Quirinale deluso con Pespera nel rincarico il retroscene di Lario Rombardo e quindi il toto ministri per vede Goffredo Bettini ancora sottosegretario a Palazzo Ghigi al posto di Fraccaro Luciana Lamorgese la ministra riceverebbe la delega sui servizi Andrea Orlando ci sarebbe l'idea di una delega al recovery fund per Maria Elena Boschi potrebbe finire al lavoro alle infrastrutture Roberta Pinotti tra le possibili new entry anche l'ex ministra della difesa e poi Giancarlo Cancelleri tra i papabili come ministro delle infrastrutture e insomma questo è quello che ci dice la stampa ma andiamo adesso a vedere il giornale perché meritoriamente il giornale intanto in prima pagina mette la notizia che ha cercato di smentire se ne ha accorto diciamo dopo ora di pranzo è dalla pubblicazione sui giornali su tutto quello che è uscito quello che ha scritto la Repubblica ma insomma asfaltiamo Matteo in aula Casalino butta benzina sul fuoco bufera sul portavoce l'ira di Italia Viva ma poi se volete è il giorno del giudizio come vi ho detto è il titolo di apertura del giornale a pagina 2 Laura Cesaretti stive Conte terrorizzato dalla crisi al buio vuole evitare di salire al colle il mantra riprenduto a Palazzo Chigi si sa come si inizia non come finisce ma ormai anche nel PD si tiene aperta ogni possibilità Bertini scarta l'ipotesi Draghi e chiama Forza Italia ed eccoci qua vedete che è Bettini chi è noi abbiamo fatto le primarie io ho fatto le primarie con un personaggio ombra che era Bettini perché vince sin Zingaretti ma poi come dire detta la linea Bettini ma questo è sul giornale a pagina 2 poi se volete a pagina 3 c'è il papete di Renzi sia al recovery ma con dimissioni dei ministri di Italia Viva l'ex premier giura che farà saltare il banco dopo il CDM di stasera sul Next Generation U l'addio di Bellanova e Bonetti sarà la pietra tombale del Conte Ter dovrebbe essere del Conte 2 veramente alta attenzione con il colle poi c'è il retroscena di Minzolini che tra l'altro dice ecco perché orientarsi bisogna ascoltare un personaggio come Pierferdinando Casini che ha ricoperto in passato in carichi istituzionali cosa che gli permette di avere una plomb super partes diceva ieri pomeriggio l'ex presidente della Camera con il tono dell'arbitro la verità è che Conte sta facendo il furbo pensa di poter minacciare gli altri con la carta delle elezioni anticipate è convinto che se si andasse al voto il PD e 5 stelle nei guai lo presenterebbero alle elezioni come il nuovo Prodi in quel caso se vincesse tornerebbe a Palazzo Chigi altrimenti farebbe il capo dell'opposizione sono i piani che scaturiscono dalla mente del generale von Clausewitz della politica italiana Marco Travaglio sogni di gloria che nella realtà basta vedere le previsioni di Utrend sfocerebbe in un'altra gioiosa macchina da guerra di occhetto in altre parole in un'altra sconfitta storica per la sinistra è il motivo confidava ancora ieri Casini per cui nelle ultime ore il PD ha cominciato a fare un gioco diverso da Conte si è accorto anche se il ritardo dove si andava a parare che poteva finire male e Conte di conseguenza più isolato ha cominciato ad accettare l'idea della crisi aperta la crisi si apriranno i giochi se Conte è capace se riuscirà a governare le esigenze di tutti farà il Conte Ter se invece tornerà a fare il furbo si farà un altro governo con un premier tipo Cottarelli appunto ormai tutti sono convinti che la crisi ci sarà a quel punto sono gli scenari che Renzi ha spiegato ai suoi o ci sarà il Conte Ter ma non vedo in Conte la capacità politica per condurlo in porto quando vedo Casalino che ripete spianeremo Renzi in Parlamento non so se ha in tasca i voti dei responsabili ma non credo la seconda ipotesi prevede un altro premier con la stessa maggioranza magari aperta ad altri settori moderati che so come i toitiani o l'udc è un'ipotesi che per gli errori di Conte si sta facendo largo anche nel PD e in un pezzo dei 5 stelle ma che verrà fuori ovviamente a crisi aperta quando tutte le carte saranno calate sul tavolo la terza ipotesi è un governo tecnico aperto a tutti anche all'opposizione è un'ipotesi che non mi dispiace tutt'altro dice Casini già aperta la crisi già aperta la crisi si vedrà il fatto più positivo per Renzi è che tutti hanno cominciato a capire che non è il solito al lupo al lupo ma che questa volta fa sul serio il capo dei governisti del PD Dario Franceschitti l'ho detto al premier e ai suoi compagni di partito Renzi i ministri li ritira non scherza e visto che le cose si stanno facendo serie i leader di Italia Viva ha ricevuto anche la telefonata del Cavaliere in fondo è proprio l'interessato il primo ad essere consapevole che non può fermarsi virgolette se questa volta torna indietro ha detto Renzi ieri il giorno del suo compleanno perdo la faccia davvero e non posso permettermelo da tal età questo è quello che scrive Minzolini citando Casini ma a proposito di Casini vi dico subito che il tempo a pagina 9 dice che lui che qui viene stato presentato come super partes potrebbe addirittura essere invece un indiziato presidente del consiglio al posto di Conte a questo punto sarebbe meglio far sgomberare il campo a Giuseppe Conte e mettere a Palazzo Chigi Pierferdinando Casini ad essere d'accordo sul nome dell'ex presidente della Camera dei Deputati sono due esponenti uno di Italia Viva e l'altro del PD ieri dopo pranzo Casini è esperto politico come pochi altri navigato in Europa conosce tutti a cominciare da Angela Merkel storica democristiana come lui è senatore oggi nel gruppo misto e Matteo Renzi segue ogni suo passo e se alla fine l'asso nella manica dell'ex sindaco di Firenze fosse proprio Casini questo è quello che dice il tempo va bene andiamo avanti abbiamo visto il giornale nelle pagine 2 e 3 ma poi c'è anche da vedere la quattro e Giuseppe cerca Bettini come suo sottosegretario anche qui vedete come le veline passano e poi stanno su tutti i giornali idea rimpasto per conteterla dire che i servizi potrebbe andare a Guerini qui cambia la cosa e il veto sui 5 dei 5 stelle sulla Boschi quindi su tre cose qui ci sono una differente perché si dice che i servizi andrebbe Guerini invece su altri giornali si dice la Morgese ma poi sul rimpasto si dono due cose che vengono confermate una è che Bettini sarebbe il sottosegretario alla presenza del consiglio e fate portate tanti saluti al sottosegretario Fraccaro e poi che c'è un veto del momento 5 stelle sulla Boschi e poi la pagina 5 è da Domenica di Sanso che parla di Casalino asfattiamo Matteo in aula Casalino finisce nella bufera la frase attribuita al portavoce di Palazzo Chigi fa infuriare Renzi ma lui smentisce tutto mai detto e come no certo va bene diciamo questo è il giornale forse l'unica cosa positiva di Casalino in questa occasione è che perlomeno diciamo anziché provare a farlo materialmente usando il potere che ha quello della comunicazione delle venine e via dicendo lo ha detto direttamente e diciamo è una cosa almeno c'è un po' di onestà ma poi ha smentito o diciamo duello rusticano oppure Clint Eastwood mettetela come volete è Daniela Preziosi che la mette così sul domani Renzi o Conte ne resterà uno solo il giorno della verità sulla crisi oggi il consiglio dei ministri sul recovery plan nonostante le richieste del Quirinale Italia Viva continua a minacciare le dimissioni delle sue ministre per ottenere quelle del premier prima del rimpasto questo è il domani il tempo vi dicevo che il tempo abbiamo visto l'ipotesi Casini ma in realtà poi a pagina 3 si dà un'interpretazione diversa avete visto che tutti i giornali dicono che Mattarella è intervenuto su Renzi per farlo desistere da far saltare il piano francamente io ho partecipato anche alla riunione dei deputati anzi vi rivelo un'indiscrezione io sono intervenuto nel corso dell'assemblea dei deputati per dire che a mio avviso se si esce non si vota neanche il recovery plan e già in quell'occasione quindi ben prima che Mattarella eventualmente e se effettivamente si è manifestato si manifestasse Renzi ha detto no no noi sul scostamento di bilancio certamente voteremo a favore e sul recovery plan se ci sono i miglioramenti eccetera eccetera per la parte che riguarda il recovery plan avremo un atteggiamento simile quindi diciamo non è Mattarella che ha fermato Renzi ma qui si dice sul tempo a pagina 3 così il colle ha fermato Conte il premier era davvero determinato a sfidare Renzi in senato è stato Mattarella a bloccare il piano e poi Andrea Amata anche qui c'è un commento se Matteo si accontenta del rimpasto perde definitivamente la faccia Italia Viva ha posto una serie di questioni di merito davvero si supererà tutto con qualche poltrona è Amata no pare de no che non si risolva tutto con qualche poltrona come stiamo vedendo ma andiamo avanti perché anche Libero si occupa ovviamente della questione politica all'interno del governo e lo fa con due pagine la 8 e la 9 a pagina 8 indovinate chi c'è nella fotografia Goffredo Bettini il super consigliere Dem scavalca Zingaretti e va a soccorrere Conte il protagonista delle trattative Francesco Specchia che parla come vedete è il super consigliere Dem scavalca Zingaretti diciamo che Zingaretti sta diventando il segretario del partito democratico sta diventando il consigliere di Bettini cosa che tutto sommato potrebbe anche essere utile e appropriata ma insomma Francesco Specchia dice Bettini uomo del segretario si sgancia dal PD e prova a salvare il posto di Giuseppe Forza Italia possibili sostegni non isolati e vabbè tra l'altro qui si dice dell'assessora veneta che ha cantato faccetta nera e viene sospesa dai social ma è e poi se andiamo a pagina 9 stoppa la crisi procede la confusione dopo l'intervento di Mattarella stasera il consiglio dei ministri le renziane Bellanova e Bonetti pronte a dimettersi dopo aver approvato il recovery plan e Fausto Cariotti che parla tra l'altro si dice i redditi dell'esecutivo l'amorgese il ministro più ricco in un anno il premier perde un milione e vabbè questo è quello che ci dice libero diciamo che questi sono problemi beato chi c'ha la possibilità di perdere un milione significa che ce n'ha parecchi di più e questo è un bene per lui ovviamente sul riformista voglio segnalarvi l'intervista che che scusate mi viene fatta da Aldo Torchiaro a Michele Anzaldi in Rai le video viline di Palazzo Chigi una deriva da cine giornale luce quello che la presidenza del consiglio e la Rai fanno in questi mesi e senza precedenti il PD tace e anche la Gcom ho inoltrato due esposti sul TG1 non una parola e questo è Aldo Torchiaro che ricorda questa cosa che ormai la Rai esattamente addirittura i video e le immagini che arrivano dalla presidenza del consiglio le riproduce automaticamente il messaggero ha due pagine la prima dopo la prima per l'appunto oggi il CR recovery ma Italia Viva verso lo strappo conte tentato dal voto qui vedete che c'è la terza ipotesi chi dice che Conte vuole andare in Parlamento chi dice che Conte vuole dimettersi prima e qui invece Conte è tentato dal voto scrive Marco Conti convocato un cdm notturno il testo del piano consegnato ai partiti ieri sera iradem sul premier punta alla rottura ministro Renziani dimissioni sul tavolo poi si dice che Berlusconi ha escluso ogni sostegno il pressing sui responsabili e poi se volete nel taglio basso c'è un'intervista a Pier di Ferdinando Casini che dice perso tempo la crisi serve a chiarire se nascerà un ter e coinvolgere i leader e tra l'altro dice se il presidente del consiglio va in aula e viene sfiduciato si gioca il reincarico dice il mio consiglio salire al colle e non inasprire una situazione già pesante perché non si è mosso una settimana fa e va bene poi a pagina diciamo a pagina 4 del messaggero e ce li siamo il toto ministri Emilio Pucci che parla Orlando sottosegretario i grillini vogliono il sud e mettono il veto su boschi la trattativa sulla squadra il dem potrebbe arrivare a Palazzo Chigi al posto di Fraccaro tra i Renziani sale rosato difesa o interna il movimento 5 stelle ora punta alla poltrona di Provenzano vedete che poi diciamo sarebbero i quelli di Italia via che vogliono le poltrone guardate come si scannano già senza che ancora ci sia una disposizione delle poltrone immaginate voi va bene perché non abbiamo finito perché abbiamo il foglio il foglio porta un'intervista a Teresa Bellanova che però non vi leggo se non nel titolo perché Bellanova scrive un articolo sul Corriere della Sera una lettera a Corriere della Sera che leggeremo in parte che quindi diciamo sintetizza quello che dice poi a Valerio Valentini sul foglio ma sul foglio ci sono diciamo che cominciano in prima pagina però tre cose interessanti che poi vengono riportate nella pagina 4 innanzitutto appunto la Bellanova che dice da Chigi solo post sui social e pigrizia così non si va avanti ma poi c'è da segnalare diciamo il buio oltre ai recovery è Simone Carettieri che scrive e che scrive sì tecnico in CDM e poi crisi eccolo il piano di Renzi per sfidare Conte Italia Viva vuole ufficializzare lo strappo un minuto dopo il sia il recovery trattative sul rimpasto ferme dopo il no a Boschi e poi non li prenderò per stanchezza e sapete chi è questo è Conte dice sì il recovery sì anche Italia Viva dopo lo squillo del Quirinale fa capire che la crisi ci sarà ma dopo aver approvato il piano in consiglio dei ministri con un sì tecnico ma un minuto dopo cosa accadrà le trattative per un conteter vanno avanti con tormento così come la tentazione mai abbandonata da Matteo Renzi di cercare di sostituire il premier tutte dinamiche chiare a Palazzo Chigi li prenderò per stanchezza sarò anche un neofita della politica loro avranno trent'anni di esperienza ma io sono freschissimo si è sfogato il presidente del consiglio al telefono con il gran visir del PD e chissà chi è il gran visir del PD anche la giornata di ieri è trascorsa in attesa di capire cosa potrebbe accadere oggi fino a tardasera Italia Viva e il PD hanno e con una certa sofferenza hanno aspettato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri la copia del recovery con le migliorie richieste da Matteo Renzi e da Nicola Zingaretti e cioè il prezioso lievito madre che dovrà finire questa sera in CDM per essere approvato da tutto il governo come ho spiegato con forza dal capo dello Stato d'altronto e dopo la moral suasion di Sergio Mattarella non sono consentiti scherzi il problema è il dopo l'innesco della crisi dopo tanto parlare e minacciare vale ancora la regola della tattica e così tocca registrare che ai pontieri del PD Ettore Rosato ha ribadito che al momento l'opzione più probabile resta quella già da tempo meditata e cioè l'approvazione del CDM del recovery e le dimissioni delle ministre di Italia Viva un minuto dopo che detta così può servire ad alzare la pressione sulle trattative ma che calata sulla realtà può finire col mettere a rischio la conversione del decreto ristori e la proroga dello Stato di emergenza questo è quello che dice tra l'altro canettieri ma poi appunto vi ha detto c'è Bellanova che dice quello che dice poi c'è che Valerio Valentini che dice che Conte confida nel calendario Renzi pensa al 23 altro che un anticipato insomma si dice nella sostanza che con tutti quelli che sono gli impegni il recovery il decreto ristoria e via dicendo Conte spera che Renzi decida le ministre di Italia Viva decidano di dimettersi dopo questo periodo quindi a fine gennaio ma mi pare che le cose non stanno esattamente così e poi cosa stupenda Carmelo Caruso una giornata nel palazzo di Bettini dove anche Renzi è di casa sì perché si dice che poi sostanzialmente a casa di Bettini c'è andato Renzi ma che Bettini si vede poco eccetera eccetera va bene ma insomma questo è è quello che dice il foglio chiudiamo con l'avvenire che a pagina 10 a questo titolo il piano adesso c'è stasera ci diremo il piano adesso c'è solo che nessuno ha visto ma insomma speriamo che qualcuno sia riuscito a vederlo ieri sera alle nove quando è stato mandato ai nostri ai nostri ministri e poi ci stanno due cose interessanti una è l'intervista di segnatevela questa mettete un foglietto e segnatela perché il mitico senatore Liccheri dice i nostri ministri del Movimento 5 Stelle dice i nostri ministri non si cambiano dice stabilità è la parola chiave noi preferiamo il lavoro in silenzio ai salotti tv e lo dice uno che sta praticamente dalla mattina alla sera nei salotti tv a fare dichiarazioni davanti ai telegiornali potrebbero scegliere un altro insomma per fare questa dichiarazione roboante ma la cosa divertente è che dice che i nostri ministri non si cambiano udite udite appuntate ve lo vedrete che cosa succederà poi ma nel taglio basso dell'avvenire c'è poi invece un articolo che dice autostrade all'italia e a rete unica per la fibra l'eredità pesante dei dossier senza risposte e diciamo che questa è solo una parte dei dossier senza risposte poi ci sta il famoso piano cantieri stiamo ancora aspettando i commissari insomma ci sono tante cose da vedere ma adesso veniamo alle questioni che sono i cosiddetti commenti gli editorialisti e vi segnalo prendetevi un malox perché non sarà piacevole dopo che vi ho letto invece quello che scrive teresa bellanova sul correre della sera e che dice non possiamo sempre tirare a campare e poi ad un certo punto bellanova scrive e conclude così la sua lettera al corriere poiché la storia insegna sempre qualcosa non dimentichiamo che gli anni ipnotici pretangentopoli i ministici i mistici i mitici anni 80 scusate ci sono conclusi come sappiamo un tirare a campare che non ha evitato che partiti di lunga tradizione tirassero le cuoie niente si ripete ma la farza è già in corso e non è la raffigurazione di renzi e conte nelle vesti dei duellanti farza è l'andreottismo eterno del tirare a campare quella più gerelline di risorse da spruzzare qua e là su questa o quella lobby scambiare un po' di soldi con un po' di consenso farza inimmaginabile è il gioco a carte coperte come se in un paese normale fosse possibile immaginare una politica a scatola ciusa sia per le forze di maggioranza che di opposizione conte non può trattare il parlamento e persino il consiglio dei ministri come un parco buoi passiamo per pianta grane disturbatori ma solo per stare alla mia personale esperienza di governo se non avessi piantato delle grane non so se la filiera agroalimentare avrebbe retto in pieno lockdown e in fase di restrizioni gialle arancio e rosse non un litro di latte o un pezzo di pane è mancato sul mercato mai merito mio sarebbe ridicolo affermarlo merito di uomini donne imprese produttive commerciali lavoratori trasportatori distributori che hanno retto alla più grande emergenza della fine della seconda guerra mondiale e il ministro cos'altro può fare il ministro se non stare dalla loro parte che poi è la parte dei cittadini e del paese avrò anche picchiato qualche pugno sul tavolo di troppo ma credetemi ne valeva la pena pesa come un macigno sul cuore l'ipotesi di mandare al macero questa esperienza come pesa tutta la fatica fatta per riportare il paese sulla via di un ragionevole europeismo e di una correttezza nella gestione delle migrazioni in ultimo ma non per ultime con il senno di poi senza l'azzardo del conte 2 il conte 1 sarebbe stato travolto dall'indecenza con la quale si sta chiudendo la stagione di trump ma non del trumpismo che come il populismo e il sovranismo nostrani sono ancora tutti lì pronti a mettere a ferro e fuoco la democrazia e portare economia e qualità della vita al disastro davanti a tutto questo che Italia viva resti o no al governo è l'ultimo dei problemi ma che ancora oggi qualcuno derubri che svilisca l'arte del governo con un esercizio furbo e cattivo del muro di gomma del tirare a campare questo si rischia di diventare il più grande dei problemi questa è Teresa Bellanova una bella lettera sul Corriere della Sera passiamo ora alle cose diciamo almeno per quanto ci riguarda meno gradevoli comincerei con Massimo Franco sul Corriere della Sera pagina 3 un conflitto che rischia di costare caro all'Italia dice Franco ecco al momento esistono solo due quasi certezze la prima è la volontà di evitare elezioni anticipate la seconda è la difficoltà di sostituire l'attuale maggioranza con apporti parlamentari nella peggiore tradizione del trasformismo ma tra queste due piccole colonne d'Ercole può avvenire di tutto l'impressione è che Italia viva non abbia rinunciato alla crisi di governo seppure dando una disponibilità di massima ad approvare il fondo per la ripresa per responsabilità istituzionale sostiene pur spargendo diffidenza su Palazzo Ghigi diffidenza ricambiata i partiti alleati, Movimento 5 Stelle e PD non si fidano di Matteo Renzi continuano a temere che una volta caduto il governo sarebbe impossibile concordare con lui un'altra soluzione di fatto si aprirebbe una crisi al buio per questo si chiede che, se rottura ci sarà sia accompagnata anche dall'indicazione di una via d'uscita per limitare i danni la vittima designata dovrebbe essere Giuseppe Conte ma proprio per questo il Premier mostra una tranquillità magari solo ben studiata oppure ostentata Conte sa di essere indebolito e di rischiare fino a quando la Delegazione Italia Viva non si dimetterà tuttavia non farà un passo indietro nemmeno lui l'idea è di presentarsi davanti al Parlamento e in quella sede chiedere la Conte confida nel fatto che Renzi non possa spingersi fino a mettere a rischio la legislatura e che senza Conte la debolezza del Movimento 5 Stelle emergerebbe in modo drammatico provocando spinte centrifughe e incontrollabili fare quadrato intorno a Conte è l'alibi del Movimento per non rilevelare le sue crepe profonde il Premier è puntellato dalla debolezza di un grillismo che ha schiacciato Palazzo Chigi sulla sua agenda ma ora non può che appoggiarlo quanto al PD non vuole uscire dallo schema dell'attuale coalizione che cosa significa nella prospettiva di una crisi non è ancora chiaro l'opera di persuasione del Quirinale su Renzi avrebbe ottenuto che lo smarcamento di Italia Viva avvenga solo dopo il voto sugli aiuti europei dire che questo abbia diradato i timori però sarebbe eccessivo l'esecutivo rimane in bilico e Renzi ieri ha precisato che Sergio Mattarella è un arbitro non si mette a dire a un dirigente politico fai questo o quell'altro suggerisco di non tirarlo per la giacchetta ma l'intervento del Presidente della Repubblica un po' ha cambiato lo sfondo la Ministra di Italia Viva Teresa Bellanova continua a raffigurare un governo a capolinea eppure non si capisce se siano presaggi di rottura o pezzi di un negoziato duro a preparare un accordo in vista di un terzo governo Conte il Premier si limita ad additare una quasi certa impennata dei contagi per sottolineare la distanza tra l'emergenza del Paese e gli attacchi renziani si tratta di una sfida rischiosa eppure la sensazione è che il Premier non possa e non voglia fare diversamente bisognerà capire qual è il prezzo per tutti questo è Massimo Franco e così abbiamo visto anche cosa dice Massimo Franco sorgi oggi sorgi nella sua rubrica pagina 9 la mette così il Premier bloccato e senza iniziativa è quasi una vittima Conte dice la verifica e il nuovo patto di legislatura che dovrebbero sortire da questa crisi non crisi non riescono a salire nell'agenda e nella mente del Presidente ai primi posti delle urgenze da affrontare perché Conte c'ha da affrontare cose più importanti infatti il recovery plan è arrivato due mesi fa perché Conte si è occupato di quello dice si dirà questo lo stavo dicendo io ma dice sorgi si dirà che questa è la classica tecnica di Conte che probabilmente lo porterà tra non molto a doversi dimettere perché solo così Renzi e non soltanto lui pensa di riuscigli a imporre la necessaria attenzione politica alle molte questioni presentate negli ultimi giorni ma non è solo furbizia ci dice sorgi piuttosto una sorta di realismo rassegnato che parte da una notevole conoscenza ormai dello stato dei rapporti interni della maggioranza e della difficoltà di trovare come si diceva una volta una sintesi più alta in altre parole Conte sa bene che il Movimento 5 Stelle cioè il partito con i gruppi parlamentari più numerosi a dispetto del calo incessante di consensi in tutte le più recenti consultazioni elettorali non è più in grado di sottoscrivere nuovi accordi di governo non fosse altro perché non riesce a esprimere una nuova leadership condivisa dalle sue diverse componenti il PD è diviso tra quella parte del vertice che comincia a pensare che le elezioni anticipate non sarebbero il peggiore dei mali e i gruppi parlamentari che temono le urne e vogliono a qualsiasi costo che la legislatura continui e Renzi che non ha rinunciato all'idea di far fuori il premier e continua a puntarci in queste condizioni prendere un'iniziativa come tutti più o meno gli chiedono non è affatto semplice per conto adesso passiamo al chiuderemo poi con Folli ma passiamo al domani dove c'è questo splendido editoriale di Salvatore Vassallo sta nascendo il governo Mattarella altro che Conte 3 e questo uno dice il titolo vabbè potrebbe essere un'interpretazione ma ascoltate Vassallo ricordo perfettamente che quando Renzi era presidente del consiglio ed era segretario del Partito Democratico ma magari non perché era questo ma perché magari ci credeva veramente soprattutto sul tema delle riforme Vassallo era uno dei più grandi sostenitori di Renzi sentite qua la crisi non aveva una vera ragione il governo gode di un consenso non scontato se si considera i normali cicli dell'opinione pubblica italiana e la durezza della fase storica il premier ha una buona reputazione presso l'elettorato in particolare tra gli elettori dei partiti di maggioranza ma anche tra una certa quota di indecisi che piaccia o no anche da comparazioni internazionali emerge che il giudizio dell'opinione pubblica sulla gestione dell'emergenza è confortante per il governo in carica l'unica cosa che Conte avrebbe potuto concedere e che potrebbe concedere ai partiti era un rimpasto farsi dire cioè da chi vogliono essere rappresentati prendendo atto che si erano regolati male all'inizio dell'avventura governativa quando forse riterevano che il suo secondo governo sarebbe stato una scialuppa temporanea se Matteo Renzi fosse determinato ad andare in fondo l'unica alternativa sarebbero le elezioni non sarebbero drammatiche nemmeno per i leader del PD e 5 Stelle sarebbe meglio per loro sottoporsi subito al voto dei cittadini che essere logorati da Renzi per altri due anni dopo avergli consegnato lo scalpo di Conte la parola fine alla sceneggiata pare l'abbia messa ancora una volta il Quirinale Mattarella ha con tutta probabilità chiarito a Renzi che avrebbe usato tutti i suoi poteri come al momento della formazione del Conte 1 e Conte 2 quello chiave si chiama potere di scioglimento prima ancora che altri potessero avere tentennamenti avrebbe fatto quanto aveva dato a intendere da tempo gli avrà forse anche specificato che solo nel quadro della continuità del governo Conte sarà possibile tenere in considerazione le sue ambizioni sulla segreteria generale della Nato soddisfare le altre richieste di Renzi non è difficile la supervisione dei servizi di intelligence potrebbe rimanere sostanzialmente inalterata cioè nelle mani di un soggetto non immediatamente riferibile a nessuno dei partiti che risponde solo al premier di cui è garante in ultima istanza il Quirinale come dimostra la sequenza di presidenti con storie politiche e personalità diverse il ruolo politico del capo dello Stato è in se stesso in Italia più influente che in molte altre democrazie parlamentari compresa alcune di quelle che prevedono la sua elezione con voto popolare questo è l'equilibrio designato consapevolmente o meno dai costituenti un premier debole e un presidente forte tanto più forte quanto più le maggioranze parlamentari sono fragili e i leader dei partiti che le orientano sono inconcludenti questa è la ragione per cui i politici più navigati del centro-sinistra hanno sempre preferito arrivare male alle elezioni popolari pur di scegliere l'inquilino del Quirinale Sergio Marattarella fu scelto già uno che dice una cosa del genere andrebbe diciamo Sergio Mattarella fu scelto con il consenso di Renzi Sergio Mattarella fu scelto perché Renzi spaccò con Berlusconi per imporre che fosse Mattarella il presidente della Repubblica ma dove vivi Salvatore Vassallo? è uno dei presidenti più schivi e riservati della storia repubblicana potrebbe essere l'unico ad aver accompagnato lo stesso primo ministro di sua fiducia per un'intera legge della Repubblica vabbè insomma questo è Salvatore Vassallo ma che vi devo dire? Niente prima di passare a Folli voglio reggervi anche Sallusti che diciamo affronta da un altro punto di vista ma comunque si occupa del premier l'immobilismo che uccide e dice fa riferimento al fatto che Mattarella sarebbe stato secondo delle fake news uno degli artefici del complotto contro Trump va bene ma insomma Mattarella 007 sarebbe meraviglioso saremmo curiosi di conoscere le sue Bond Girls ma purtroppo almeno qui in Italia abbiamo altre priorità per esempio capire perché è potuto succedere che Umberto Sbrescia 66 anni storico fotografo partenopeo si sia suicidato perché finito sull'astrico dimenticato dallo Stato dopo un anno di inattività per via del lockdown si è arreso e tra perdere l'onore e dignità e perdere la vita ha scelto la seconda opzione lasciando un testamento da brividi chiedo allo Stato di non accanirsi sui miei figli per i debiti che ho contratto con il fisco era una brava persona Umberto Sbrescia bravo e generoso in questi mesi non ha visto un euro di ristoro e la sua morte purtroppo sta scivolando via come acqua fresca lo riscrivo perché questa frase dovrebbe diventare il programma di qualsiasi governo chiedo allo Stato di non accanirsi sui miei figli per i debiti che ho contratto con il fisco io sono certo un po' conosco l'uomo che quando ieri su questo giornale ha lanciato l'appello fate presto in port suo Silvio Berlusconi come si riferiva ai tanti Umberto Sbrescia che vagano smarriti nelle nostre città la nuova povertà è più ingiusta delle altre perché imposta sì dalle circostanze ma amplificata da uno Stato assente e avvitato nella sua incapacità fate un po' quello che volete ma come dice il saggio Berlusconi fate presto ogni giorno che passa nell'immobilismo è un giorno assassino per migliaia di persone non potete permettervi questo andazzo nessuno vi perdonerà ulteriori ritardi nel rimettere in piedi il paese con i fatti non a parole come al solito concluso con il giornale concludiamo i commenti con Stefano Folli sulla Repubblica a pagina 29 che la mette così le ambizioni e la responsabilità dice fa riferimento al famoso detto il diavolo ha fatto le pettole ma con i coperchi ma è sempre una questione di pentole e di coperchi a quanto pare né il presidente del consiglio né il suo avversario Renzi che pure aveva accolto senza entusiasmo ma con rispetto l'iniziativa di Mattarella riescono a stare in questo schema il primo perché si sente ormai un leader politico in ascesa ed è sempre più tentato dalla sfida in Parlamento tipo Ok Corral con l'idea di umiliare Italia Viva riuscendo a salvare il governo o in caso contrario ritagliandosi un ruolo di protagonista nella successiva campagna elettorale il secondo perché vede le manovre di Conte e tenta di tagliargli la strada obbligandola a salire al colle subito dopo l'approvazione del recovery in consiglio ciò che servirebbe ciò che avverrebbe se le ministeri renziane lasciassero davvero il loro poltrone come da tempo annunciato in fondo Conte segue la logica di un'ambizione personale ormai quasi incontenibile mentre Renzi non può accettare per i suoi un reingresso al governo che non sia nobilitato diciamo così da un passaggio istituzionale al Quirinale cioè dalle dimissioni dell'avvocato del popolo in tutto questo è ben ricordarlo fino a ieri sera pochi erano ecco meno male che lo ricorda Folli in tutto questo è bene ricordarlo fino a ieri sera pochi erano riusciti a vedere e tantomeno a studiare una bozza definitiva del piano governativo sappiamo solo che esso deve passare al vaglio del Parlamento per essere presentata all'Unione intorno a metà febbraio sappiamo altresì che l'Italia ha già accumulato un ritardo inquietante che il rischio di perdere l'anticipo delle risorse estanziate oltre 20 miliardi comincia a creare ansia il Presidente della Repubblica si è esposto in forma inusuale per smussare i contrasti e indicare una ragionevole via d'uscita dalla palude lo ha mosso la convinzione che l'Europa sta perdendo la pazienza come tanti indizi indicano la settimana premere per l'approvazione del piano significa creare una rete di sicurezza per far sì che i giochi domestici non producano effetti autodistruttivi ma il tessuto politico si sta lacerando e forse è tardi anche per quella che in brutto gergo politico si chiama una crisi pilotata nonostante i buoni uffici del PD e in parte dei 5 Stelle governisti vedremo stavolta i tuomini sono finiti e arriva la pioggia chi ritiene che sia ancora in tempo per lo scenario della crisi breve e controllata dovrà esibire un surplus di senso di responsabilità altrimenti c'è l'ipotesi di un cammino che comincia al buio tale da portare o alle elezioni o a una nuova maggioranza ancora con queste elezioni di cui al momento non si intravedono i contorni ma che ove mai esistesse dovrebbe farsi carico delle misure economiche e sociali necessarie al di là dell'emergenza del virus in una primavera che si annuncia drammatica per famiglie e imprese beh questo era folli con questo chiudiamo i commenti della giornata di oggi e andiamo a vedere le altre questioni va bene per quanto riguarda l'opposizione vi segnalo due questioni il giornale a pagina 6 il Berlusconi statista opzione opposizione compatta nessuna stampella a questo esecutivo dice Sabrina Cottone gli azzurri ribadiscono a linea Berlusconi France Italia Lega e Fratelli Italia lavorano al contro recovery posita qui notizia che il voto premerebbe il centrodestra sono gli scenari di Utrend che ha fatto vedere ieri a tutti quelli che nel PD che fanno finta di dire che si va dalle elezioni che se si va dalle elezioni con i collegi non i nominali praticamente la maggioranza di grillo democratica non ne prenderebbe praticamente manco uno era impressionante la cartina di ieri di Utrend ma andiamo avanti perché c'è anche da segnalare il domani a pagina 5 che dice Berlusconi sempre più istituzionale tutte le mosse di Forza Italia portano al colle il leader di Forza Italia chiede al governo di fare presto con il recovery plan e conferma la linea dialogante nell'interesse del paese nel frattempo lavora per il dopo Mattarella coltivando un sogno ritornare a Palazzo Madama come senatore a vita e questo è il domani ma chiudiamo con alcune cose innanzitutto dalla stampa adesso entriamo nel merito delle questioni la stampa ha due pagine che riguardano la situazione economica la prospettiva soprattutto che sono utili e anche preoccupanti a pagina 10 ristori per tutte le attività in perdite il conto degli aiuti supera i 30 miliardi il tesoro lavora al piano da 24 miliardi ma la cifra può salire l'ipotesi altri tre mesi di cassa integrazione covid e poi però c'è l'imprenditore Giordano Riello che dice bloccare licenziamenti non ha più senso e la CIG gratuita non cambia la situazione a proposito di lavoro la pagina 11 invece il lavoro sparito le nuove povertà il grande nord ora rischia il nord ora rischia l'abisso la pandemia accelera il declino della locomotiva Italia la rabbia degli imprenditori il problema siamo noi non l'Europa ma questo sulla stampa pagina 10 e 11 a proposito di recovery il domani che spara zero su Renzi avete visto gli ignazzi oggi va a sale e vi dicendo cosa ci dice però a pagina 4 ci dice altro che generazioni future i progetti del recovery plan sono un remake del passato tra le opere da finanziare con i soldi europei il governo ha inserito anche la ferrovia Salerno-Reggio Calabria ma non esiste nemmeno lo studio di fattibilità ma guarda un po' si accorge il domani che il recovery plan era scritto sulla sabbia sostanzialmente ma pensa un po' segnalo anche il messaggero a proposito di merito in questo caso a pagina 3 ci dice in 3 anni 94 miliardi e con i fondi UE il totale cresce a 310 nel testo finale di Gualtieri più soldi a sanità e agricoltura oltre agli effetti degli investimenti su giovani e mezzogiorno e qui si dice quello che sarebbe il nuovo piano che come vedete i giornali hanno avuto certamente prima dei ministri dice per quanto riguarda la digitalizzazione la pubblica amministrazione 500 milioni in meno per le assunzioni per quanto riguarda la rivoluzione verde il super bonus 110 edifici pubblici sostenibili le infrastrutture alta velocità si aggiungono 4,5 miliardi per quanto riguarda l'istruzione finanziati alloggi borse e tempo pieno per la coesione sociale per gli asini distanziati 3,6 miliardi sulla salute 4 miliardi in più per telemedicina e nuovi ospedali e poi come vedete per quanto riguarda invece le opere su cui si danno nominare i commissari i commissari altro rinvio delle nomine restano congelate opere per 66 miliardi e perché poi c'è anche questo Italia Viva che blocca le cose chi deve dare l'indicazione ai commissari la ministra De Micheli la lista completa degli interventi alla Camera ma Palazzo Chigi non ha indicato i responsabili questo ci dice il messaggero ancora se volete però un quadro generale su Recovery Plan potete andare sul Sole 24 Ore che in prima pagina titola Recovery Plan ecco le 47 linee di azione sanità piano speranza da 18 miliardi adesso diciamo io non voglio dire ripetere frasi che ho detto ma leggere su Sole 24 Ore che i 18 miliardi della sanità sono merito di speranza se Italia Viva non avesse puntato i piedi 20 giorni fa sarebbe stato approvato un piano che prevedeva 9 miliardi per la sanità è chiaro questo non solo al Roberto Speranza ma al Sole 24 Ore perché arrivare addirittura a essere coglionati francamente mi sembra eccessivo ma insomma misure nuove che cosa accadrà e qui ci sta tutto quello che volete andrei su Repubblica pagina 9 che sulle misure la mette così sulle nuove misure nel decreto più vincoli alle regioni sarà difficile scalare di zona dall'arte ai weekend i dubbi da sciogliere sulle nuove norme insomma c'è ancora indecisione ma abbiamo capito che le cose non andranno per niente bene se volete c'è Libero che dà la sua impostazione alla vicenda con il trionfo della disobbedienza civile bar e ristoranti al contrattacco in 30.000 riaprono crepi il governo un imprenditore di Pesaro sfida l'esecutivo da venerdì rialziamo le salacinesche si uniscono all'iniziativa in migliaia nessuno crede più alle promesse di Palazzo Chigi va bene questo sulle misure per quanto riguarda la scuola c'è anche qui un po' di tutto voglio segnalarvi la Repubblica a pagina 10 e 11 che la mette così se ci riesca ad arrivare eccoci qua la scuola alza la voce e a solina si accoda la dad non basta più proteste in tutta Italia contro le elezioni online fateci tornare in classe la ministra i ragazzi hanno ragione Zingaretti il governo dia risposte e poi c'è una dichiarazione di Elena Bonetti e giovani le scuse da parte delle istituzioni per non aver saputo garantire il diritto allo studio e poi c'è il racconto di dove cosa è accaduto dove è stata invece aperta la scuola per esempio in Toscana non spingete c'è un altro bus la Toscana ha la prova del rientro segnalo anche sul tema della scuola il giornale a pagina 10 che dice sia il ritorno in classe la curva sta risalendo per i rapporti sociali chi parla è il direttore scientifico dello Spallanzani che è a favore del rientro in classe è Giuseppe Ippolito dice le zone colorate è necessario semplificare insomma dice Ippolito che tra tutti gli scienziati mi sembra obiettivamente uno dei più seri sia il ritorno in classe la curva sta risalendo ma i rapporti per i rapporti sociali non per la scuola i rapporti sociali che continuano come noto ad esserci il libero si occupa della scuola ma in particolare su quello che è il disagio che sta provocando ai ragazzi mega zuffe tra ragazzini per sfuggire alla noia l'ultimo caso a Gallarate un centinaio di minori sono ritrovati in piazza e hanno fatto a botte il regolamento di Conte tre episodi in pochi giorni e insomma forse qualcuno dovrebbe interrogarsi se accadono queste cose avevamo letto nei giorni scorsi che per esempio è esploso il consumo dell'alcol e soprattutto nei più giovani ecco magari qualcuno qualche domanda se la potrebbe fare quando poi si fanno determinate valutazioni voglio segnalarvi il messaggero perché non solo ci si occupa come sempre di scuola nelle pagine 6 e 7 con dice PC spenti per protesta la rivolta dei liceali DAD sfida azzolina PD poi si dice intervista Stefano Vicari aggressivi adolescentisti la chiusura delle scuole ha reso i ragazzi più fragili vedete che diciamo più di uno ormai dice questa cosa e questo è uno psichiatra e poi si parla anche delle posizioni diverse anche tra gli studenti nella pagina 7 rientriamo no a casa la confusione va in piazza così la mette il messaggero che poi a pagina 9 c'è un'intervista con Pregliasco che francamente diciamo a Natale troppi irresponsabili serve una terapia da cavallo ma irresponsabili di che? avete chiuso tutto le multe sono state ridicole rispetto ai controlli ma che irresponsabili? si prosegue con questa attività di colpevolizzare terrorizzare la gente da una parte gli si mette il terrore bisogna fare determinate cose e poi la gente si comporta bene però va comunque colpevolizzata va bene comunque lasciamo perdere e segnalo anche l'avvenire il titolo di prima pagina dell'avvenire anche esso sempre attento alla scuola scuola dimezzata sale la protesta contro le elezioni a distanza le superiori azzolina ora basta e vabbè insomma abbiamo visto la scuola vi segnalo sulla scuola non è tempo di leggerla Carlo Verdelli sul Corriere della Sera in prima pagina a pagina 22 e poi Campi in prima pagina sul messaggero e prosegue poi a pagina 11 per quanto riguarda i vaccini Corriere della Sera pagina 11 Italia produca vaccini oggi farei una sola dose ma a molte più persone chi parla è il professor Remuzzi l'approvvigionamento non basta serve uno sforzo globale rinviare i richiami a 120 giorni perché arrivando meno dosi bisogna averle per i richiami ma poi se volete anche sul tema dei vaccini vi segnalo il Corriere della Sera e la stampa scusatemi con Carlo Cottarelli che scrive in prima pagina un'analisi il nostro oro sono i vaccini economia e scuola ripartono solo così per i vaccini poi ci stanno anche però abbiamo visto le truffe dell'avanzo nelle fiale che è stato utilizzato e vi dicendo ma abbiamo visto e lo vediamo su varie cose anche su Repubblica pagina 7 su vari giornali ma che diciamo 100.000 vaccinati fuori lista la beffa a sanitari anziani dell'RSA furbetti ma anche molti amministrativi delle Asla autorizzati tra i 700.000 protetti e indagano in asse insomma da qualche parte c'è scritto che sono 100.000 quelli che non hanno nulla a che fare con le linee prioritarie che sono state stabilite dal Parlamento su proposta del Ministro Speranza e che si sono presi il vaccino ora se calcoliamo che sono 100.000 su 700.000 forse c'è qualche tempo una cosa che ha fatto e farà molta polemica è il piano pandemico il nuovo piano pandemico perché ci dice la Repubblica il nuovo piano pandemico i medici curino prima chi può salvarsi nella bozza per il 2021-2023 le priorità in caso di crisi e scarsità di risorse dalle mascherine alle terapie intensive le regole per non sbagliare ancora cioè il nuovo piano pandemico dice i medici curino prima chi può salvarsi non è che il nuovo piano pandemico dice prendete i 36 miliardi del MES e organizzate come Cristo comanda la sanità per garantire a tutti di essere salvati no come dice giustamente Renzi ieri no il piano pandemico dice fate la selezione e d'altra parte poi cosa dire al tempo quando dice in prima pagina col titolo di apertura se va male addio cure ai vecchi ecco il nuovo piano pandemico senza soldi e scorto il governo deciderà chi salvare e chi no vaccini e medicine destinati solo a chi ha speranza di vita esclusi i più anziani e i deboli è la selezione della specie Matteo Renzi dice per evitarla non è meglio chiedere il MES eh esatto fa bene il tempo a evidenziarlo tra l'altro per quanto riguarda i morti sui numeri alti che ci sono in Italia c'è Libero che a pagina 5 pone dei dubbi perché dice anche i dati sui morti rallentano con la pandemia sono sparite le polmoniti alcuni esperti spiegano il fenomeno con le chiusure ma altri pensano che molte influenze siano confuse con il covid e questo su Libero si segnala che per quanto riguarda il virus vabbè ma questo lo troviamo un po' su tutti i giornali prendiamo dall'Avvenire a pagina 7 che è un anno dall'inizio diciamo della pandemia un anno fa la prima vittima Wuhan l'OMS sbarca ora in Cina per indagare in realtà per quanto ci riguarda scopriamo vediamolo sul Corriere della Sera che addirittura a novembre ci sarebbe stato il primo infettato diciamo e lo vediamo a pagina a pagina 10 del Corriere della Sera il virus a Milano già a fine 2019 Fontana avverte vicino alla zona rossa individuato nuovo paziente uno una 25enne a novembre di un anno fa con dermatosi atipica e va bene questo è quello che ci dice il Corriere della Sera segnalo cose molto interessanti per quanto riguarda il fisco Repubblica pagina 24 si fa riferimento a un'indagine conoscitiva che il presidente della commissione finanze Marattin ha avviato alla Camera fisco la rottamazione è possibile solo per le cartelle già ricevute Ruffini dice per le sanatorie serve prima la notifica il governo studia come diluire 50 milioni di avvisi ai contribuenti e questa è una delle cose ma poi se andate sul sole 24 ore a pagina 6 si dice che reddito minimo esentasse variabile in base alle famiglie riforma fiscale la proposta del direttore dell'entrata in linea con le commissioni parlamentari Banca Italia dice ampliare la base imponibile con la revisione del catastro con fedelizia dice no a nuove tasse e allora però polemicamente se volete il tempo in prima pagina scusate non in prima pagina bensì no scusate il giornale a pagina 7 ecco qui dobbiamo avviarci la conclusione ma il giornale a pagina 7 dice interpreta così le parole di Ruffini to ora Ruffini loda la flat tax e ammette l'evasione è bassa capo del fisco soluzione trasparente ma poi critica il forfettario non versate imposte solo per 80 miliardi per quanto riguarda i conti pubblici pubblici c'è da segnalare dalla stampa che lo prendiamo dalla stampa ma comunque che Mudis la vede nera l'agenzia di rating dice che le cose non si mettono bene per l'Italia allarme Mudis sui conti dell'Italia regioni e comuni a rischio default per quanto riguarda le questioni della giustizia non posso non mettere in evidenza il riformista che prosegue sul caso Palamara lo fa nella pagina 4 intervistando il presidente della NM Santa Lucia quelli che inseguono il consenso sono i magistrati meno capaci Palamara non deve essere il capo espiatorio le sentenze impopolari bisogna mostrarsi forti di fronte alle polemiche contingenti l'obiettivo è la credibilità della funzione Ben hanno fatto i giudici di sorveglianza reggere l'urto delle critiche per le scarcerazioni dice il riformista e il leader dell'associazione nazionale magistrati il carcere deve offrire opportunità di risocializzazione e va riservato ai casi più gravi facesse un colpo di telefono a Davigo e compagnia ma molto bene queste parole del presidente della NM per quanto riguarda l'informazione vi voglio segnalare due cose dal giornale una a pagina 14 che si fa riferimento a Toninelli che avrebbe chiesto praticamente dice il delirio di Toninelli basta fondi ai giornali che parlano male di lui il grillino offeso per i nostri articoli sulla sua testimonianza al processo su Open Arms e poi però sempre dal giornale vi segnalo a pagina 17 in questo caso dubbi sulla privacy di Whatsapp da Trump a Zuckerberg fine quotidiane italiane allarme social media ma dice ma dall'8 febbraio questo è riferito a Whatsapp i dati della app condivisi con Facebook e Twitter sospende libero insomma è un tema quello della privacy arriverà un aggiornamento di Whatsapp che sostanzialmente condivide i nostri dati con Facebook e non è una questione da poco forse andrà approfondita per quanto riguarda il Papa vi segnalo la Repubblica molti giornali a pagina 20 si occupa di una decisione importante del Papa di ieri letture comunione il Papa dice sì alle donne sull'altare ma poi e su questo vi segnalo anche Gotor sulla prima pagina di Repubblica mentre la Tognotti sulla stampa a pagina 23 e si occupa di un'altra parte delle parole del Papa che sono quelle che riguardano i vaccini e parole dure contro i Novax dice Papa Francesco e i folli Novax e Eugenia Tognotti poi ovviamente c'è la politica estera è inutile che vi parlo degli USA l'impeachment le cose avete sentito tutti i telegiornali comunque trovate su tutti i giornali si amplia il dibattito sul tema dei social con la comunità europea che ha preso posizione anche questo lo trovate su tutti i giornali in segnalo in particolare Maurizio Ferrara sulla prima pagina del foglio Anna Hidalgo si candida per le presidenziali lo vediamo sulla Repubblica a pagina 18 che ci dice esattamente il manifesto verde della sindaca Hidalgo un passo verso l'Eliseo tema ripreso anche dalla stampa a pagina 18 sempre da Repubblica invece a pagina 19 si parla dell'Egitto economia in mano ai militari così Al-Sisi controlla l'Egitto e per chiudere sulla Etiopia massacro in Etiopera ce lo dice l'avvenire a pagina 15 che orrore Tigrai strage nella città santa morti per difendere l'arca dell'alleanza massacrati in 750 da Xum inclusi fedeli della chiesa di Santa Maria di Sion ecco con questo chiudiamo la rassegna stampa se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle 7 e mezzo buona giornata a tutti